E carissimi benvenuti, bentornati, in questa domenica facciamo un video breve, molto breve, un focus, se vogliamo dirla tutta, un focus sul caso di Liliana, un'attenzione particolare soltanto su un elemento, su un elemento chiave, cioè i sacchi della spazzatura. E quando dico i sacchi della spazzatura mi riferisco non tanto ai sacchi neri nel quale fu trovato il corpo di Liliana ma i sacchetti della spazzatura che portava Liliana il 14 di dicembre quando uscì da casa. Vedete, i sacchi della spazzatura come elemento comune di questa storia ed è un elemento strano. Strano perché? Sapete che c'è stata la diatriba con Serpini che dice ma come mai non l'ha conferito prima nei cassonetti che sembra che non c'erano, insomma, di tutti i tipi della differenziata. Ma la stranezza, sapete dove sta? Sta nel fatto della quantità di questi sacchetti. Sono almeno 4-5 borse piene, piene di questo qualcosa, insomma, di roba dentro. E' considerato che lei con Sebastiano non avevano nemmeno, per quel poco, insomma, nemmeno né pranzato né cenato a casa, né la domenica precedente quando erano andati a grado, vi ricordate, in bici, quindi a passeggiare, eccetera. Nel lunedì, dove erano andati prima in sauna in Slovenia e poi la sera a cena a casa degli amici rumeni. Quindi lei che era tanto precisa, si dice, no, di buttare volta per volta tutte le piccole cose perché capirete bene che vivendo in due persone non è che si faccia tanti accumuli di cose. Per cui è strano, sicuramente strano, che lei quella mattina uscisse di casa con queste 4-5 buste piene di indifferenziati di vario tipo, come se l'avesse accumulata, cosa che non rientrava affatto nelle sue abitudini. Quindi è una cosa anomala sulla quale pose attenzione. Quindi io ho pensato, e l'ho detto anche in un video precedente, che quel modo di camminare con queste buste in mano piene potesse essere come un segno distintivo, come un segno di riconoscimento. Voi pensate che esce in quella maniera anonima quella mattina in cui va incontro, diciamo, a personaggi anonimi e magari la comunicazione è quella di una donna che cammina con diverse buste in mano indifferenziate, magari bassina e che alle 8.50 sta all'isola ecologica a depositare questa indifferenziata. Certamente è, come dire, una fotografia abbastanza dettagliata della persona. Ora, certamente se fosse così, lo so che sembra una spy story questa, ma se fosse così è evidente che lo si fa perché c'è qualcosa di poco chiaro e credo anche che poco probabilmente fosse la prima volta, può darsi che già era capitato qualche altra volta questo tipo di incontro al buio, fra virgolette. E magari poi questa volta è stato un incontro, ecco, purtroppo fatale. Finché poi, diciamo, non viene fuori l'identità anche di quelle persone che si sono viste nel filmato, specie una delle due che viene vista abbastanza dettagliatamente, la suggestione è normale che ci sia. Io credo che possono anche essere due persone che non c'entrino niente, però adesso, viste di viste, viste di viste, credo che questa persona, specie la seconda persona con lo zainetto, se è una di Trieste, uno che sta lì, insomma, che si riconosce o che viene riconosciuto da qualcuno, si può benissimo indicare. Ora, più passano i giorni e più queste persone non vengono minimamente riconosciute da nessuno e ne si autoriconoscono. Allora la suggestione prende, come dire, una certa consistenza. Vedete? Comunque Trieste non è New York, quindi non credo che fossero due turisti che... due turisti americani che stavano passando e andando via. Quindi, anche questa è una suggestione da verificare. Certamente, certamente, vedete, questo nervosismo che ci stava per tutta la giornata del 13, la serata soprattutto, quella famosa cena del 13, quella agitazione che ha pervaso la giornata del 14 già poco dopo le 9, poco dopo le 10, sono degli elementi sintomatici. Ora, vedete, voglio chiudere brevemente oggi. Io vorrei anche credere, alla fine, alla buona fede dello Sterpin quando lui professa questa sua preoccupazione perché lui era l'innamorato che attendeva la sua innamorata. Ma, purtroppo, non si può credere fino in fondo a questa buona fede dell'attesa perché è un'attesa troppo agitata, cioè, sono comportamenti anomali, ma veramente troppo, troppo esagerati che non si possono credere. Come potrei anche credere, come dire, a questi amici, queste persone che le sono state così vicine a Liliana e che però poi alla fine emerge tutta una vita di rose e fiori, di amicizia, di serenità, che a me sembra un quadro troppo edulcolato. Quindi, sono quel gruppo di amici spesso ritratti in foto, appunto troppo amici di foto perché poi lo stesso Sebastiano in momenti diversi ha detto che ci stavano delle antipatie fra di loro, che magari il rapporto con i vicini di casa non era propriamente così, con Laura e Pino non era propriamente così, che, non so, con la cugina Silvia Radina si sentivano siano due volte l'anno, che aveva soltanto rapporti con il fratello Sergio, ma di un certo tipo, perché lei aiutava continuamente questo fratello. insomma, quindi questo quadro bucolico, diciamolo così, è il contrasto un po' poi con la realtà, appunto, delle buste di spazzatura. Quindi, io credo che sia necessario, sia necessario, a parte tutto quello che siamo detti sulla perizia che ha mille contraddizioni, credo che sia necessario, per la verità, per la giustizia, che si faccia ulteriori approfondimenti, partendo, ecco, da analisi alternative, che credo che ormai è una cosa pacifica. Grazie, ci aggiorniamo in settimana. Un abbraccio a tutti quanti voi.